A presto chiudere 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 se siamo arrivati a mangiare il peccolino chiudere il scamone e allora guarda il piecchio e su vado io e si manchiano ah sei a posto sforzo in giù in giù o in giù rimanerà dentro Sì, solo te la vai tu! Vai giù, primo! Vero? No, vai tu! Madonna! Un fritto misto? Sì, va fritto! Lui c'è tanto eh? Sì! Molla! No, rifà perché non sei ancora fermato! Se spinge ancora vuol dire che...